Tragedia scampata ieri mattina al comune di Capaccio Scalo in piazza Santini, Maria Tramontano, residente nel parco residenziale dei Tighi nella contrada della Licinella, ha messo in atto una protesta minacciando di lanciarsi nel vuoto. La donna infatti ha raggiunto il balcone del primo piano del comune sporgendosi fuori con una gamba e gridando di voler incontrare il sindaco Italo Voza. La donna è stata sfrattata dall'abitazione in fitto per mancato pagamento di alcune mensilità. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il personale della polizia locale e alcuni dipendenti che sono riusciti a convincerla a non compiere l'insano gesto. Sono disperata, non so più che fare, ha detto la signora Maria. Non riesco a sostenere l'affitto. Ho bisogno di aiuto, le istituzioni devono fare qualcosa. La donna ha anche un figlio disabile, tempo fa ha perso il marito. È stata ricevuta dal sindaco Voza che ha cercato di calmarla, dando la propria disponibilità ad una risoluzione del problema. È stato necessario anche l'intervento dei sanitari del locale presidio PSAUT. Il sindaco ha evitato che venisse sfrattata, ottenendo una proroga di un mese, ma a gennaio, se non paga, dovrà andare via lasciando libera la casa dove vive. Il sindaco Voza ha assicurato il proprio impegno per trovare una sistemazione provvisoria.